Benvenuti ragazzi, io sono XStarter e oggi sono qui su GTA 5 Online diciamo a parlare del nuovo DLC di Natale che molto probabilmente uscirà al 99,999% su Next Gen poi su Old Gen è un altro fatto che ora andiamo un attimo a spiegare e a parlare di questo argomento una piccola cosa prima di iniziare, io vi invito a scaricare questa splendida estensione che ho creato per voi positivamente in questo modo se voi scaricherete questa estensione priva di virus al 100% quindi state tranquilli, non ha virus, non ha nulla di che praticamente è un'estensione dove quando io caricherò un video l'estensione vi invierà la notifica che io ho caricato il video e quindi voi non vi perderete i prossimi video quindi mi raccomando se la scaricate mi fate un piacere così almeno non vi perderete i video e non pensate a quel XStarter di merda è inattivo seguite quello che vi sto per dire e magari dopo lasciate un bellissimo commento qui sotto e condividete il video sui vari social net ragazzi diciamo che il DLC di Natale voi lo avete già, voi come io, come tutti quanti anche chi ha la old gen, diciamo il DLC di Natale lo ha di già perché che cosa include il DLC di Natale? nulla di che, solamente vestiti, cappelli tipo di Natale, maschere di Babbo Natale e quant'altro e soprattutto la neve vabbè comunque diciamo che noi il DLC di Natale lo abbiamo già dentro la nostra console, dentro il nostro gioco la Rockstar deve solamente diciamo modificare un codice di GTA mettendo diciamo off il DLC di Natale cambiandolo in on DLC di Natale, nel senso attiva il DLC di Natale e poi avremo tutti i contenuti disponibili come insomma il DLC del... come insomma il DLC del Independence Day o il DLC di Halloween che Halloween è uscito a sorpresa come uscirà molto probabilmente il DLC a sorpresa, quello di Natale se poi ragazzi invece la Rockstar vuole fare da capo diciamo aggiungendo cose nuove nel DLC di Natale con le solite puttanate, insomma nuovi veicoli, nuove maschere, nuovi vestiti e magari anche qualche nuova attività che quello non fa mai male perché le attività diciamo che sono belle se quello, se aggiungeranno queste cose nuove oltre al fatto di aggiungere la neve e i vecchi diciamo contenuti esistenti questo avverrà secondo me solamente su PS4, Xbox One e PC quindi solamente su Next Gen mentre chi ha la Old Gen avrà solamente i DLC, diciamo quello vecchio insomma i contenuti vecchi quindi se ci sarà diciamo nuovo DLC, ricapitolando se ci sarà un nuovo DLC diciamo che chi ha la PS4, chi ha la Next Gen può avere il nuovo DLC insieme a quello vecchio chi ha invece la Old Gen può avere solamente il DLC vecchio se la Rockstar vuole fare una cosa del genere perché se la Rockstar diventa così bastarda ma non lo so cioè se vuole proprio eliminare anche il DLC vecchio che voi già avete cioè voi, nel senso voi giocatori della Old Gen diciamo che la Rockstar è una bastarda all'ennesima potenza ragazzi parliamo invece di quanto costeranno le cose del DLC di Natale se uscirà qualche cosa di nuovo qualcosa di nuovo come auto, vestiti e quant'altro diciamo che si aggirerà diciamo che la cifra per comprare tutto il contenuto del nuovo DLC caso mai ci saranno nuovi DLC oltre a quello vecchio si aggira sui 2-3 milioni di dollari di GT Online il che non è tanto quindi è una cifra abbastanza buona secondo me perché comunque possediamo tutti almeno 1-2-3 milioni dai perché comunque raga il DLC di Natale è un DLC diciamo a sorpresa che poi comunque già lo sappiamo sia perché l'hanno già fatto una volta e sia perché hanno trovato codici cazzare vari insomma lo sappiamo di già che uscirà e quindi come il DLC di Halloween che ha avuto poche cose insomma poche cose con le due auto e altre cose così il DLC di Natale diciamo che sarà lo stesso solamente in tema natalizio bene ragazzi io vi invito a iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti vi invito a passare per la mia pagina Facebook link in descrizione il mio profilo Facebook link in descrizione mi raccomando passateci raga condividete questo video sui vari social network mi raccomando condividetelo così almeno fate girare la notizia con i vostri amici insomma anche i vostri amici devono sapere questa splendida notizia e fatemi sapere che cosa ne pensate voi di questo argomento mi raccomando fatemi sapere che cosa ne pensate di questo argomento insomma voglio sapere la vostra detto questo raga noi ci vediamo al prossimo video mi raccomando lasciate like condividete il video e ciao ciao